buonasera a tutti e benvenuti bentornati in questo nuovissimo video oggi siamo su notifico raft notifichi che non ti fa cliccata cata cata ciao spiega di chi è questo questo è sempre da quel che ho capito di uno di quelli che ha fatto the legend craft se ho ben capito no sono divisi praticamente e ognuno per la sua loro strada e lui ha deciso di aprire un nuovo server di una sola modalità per ora per ora una modalità però abbiamo visto da diciamo che da pepo 33 93 abbiamo visto la modalità c'è a me sinceramente è piaciuta vederla strana sinceramente però ci incuriosisce parco questo è il parkour la mappa la mappa modalità la modalità si chiama ultimate island versione 1 8 si può dare una mossa madonna mi ha fatto loggare con due cose diverse ho capito però se sempre tutte riavere minecraft c'era scritto 1 8 che cazzo posso fare io ok ci sono era entrato con la 1 10 2 che noiosa che sei allora dicevamo ultimate island quello è già fatto siamo dispersi su un'isola circondata da acido sopravvivi ampliando la tua isola completando challenge molto altro ma sai che non so se si può fare il multiplayer anche l'isola ma penso di sì c'è il visit sicuro è tipo io lo spero perché se no non mi va di giocare lo skyblock a me prendiamo allora entriamo ultime a ok sono due server noi entrami in quello a quello b a b in quello a o b a asenca ma va a cacare ok faccio l'armor vediamo subito l'armor tac si ma di leather e fa bene come c'è nuyoja andiamo a warp info voglio vedere warp info per iniziare a vedere un po' le cose protezione ok qui c'è la protezione partendo dal centro la tua isola e tutto ciò che piazzerà e avrà una protezione di 100 blocchi ah quindi in automatico si avrà una protezione di 100 blocchi quello che è fuori invece lo possono rompere ok le chest sai che è possibile proteggere ogni tipo di contenitore e anche le porte usando semplicemente un cartello qua ci sono tutte le info guarda a roba infolocker si è il private molto semplice dove mi sono infognato per il private sei nell'info locket come si esce qua ti chiamati pompieri capitano mi faccio uscire da qui capitano protezione standard ma si c'è il private si te l'ho detto che c'è il private dove sei? ho dovuto fare slash spawn avverti entrando nel team cancellerai in automatico la tua isola ok quindi si c'è il team ah bene bene allora faccio un'isola esatto c'è il team ok is slash is per crearti un'isola slash is at home ok niente di complesso crea già così poi ok volevo vedere se c'era il condo per il team ecco is team ok perfetto allora slash is penso di essere crashato male facendo slash is mi è partito internet che bella la vita ok e va ok aspetta me hai crashato minecraft ok io sono crashato di internet tu sei crashato di minecraft sto server mi sa che porta sfiga ok comunque sto dicendo slash is ok notifica perfetto benvenuto all'isola attenta all'acido ok attenta all'acido slash invite asenca aspetta non posso perchè? stanno givando robe e io sono qui a prendere ma perchè lei ha così un culo? io il culo non lo vedo neanche oh c'è un mob spawner di ghast non ci credo dove sei? oh dio uno stacca 64 di ferro allo spawn madonna madonna sputi sputi ferro un'ascia sputi 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 ha finito sputi ancora ha finito oh muoviti muoviti in giro qua nella marmassa sputi sputi ma parca ti muovi? cosa? io ti ho mandato l'invito ah ma finito? ma vaffanculo vabbè qualcosina ma qualcosina dai qualcosina hai fatto accetta il mio invito ah si scusa madonna com'è che si faceva slash is accept is accept no ah si com'è sssaccio nooo dovevo mandare lo spawner prendere altra roba ok se faccio così funziona? ok eh puoi invitare ancora sei giocatori? no col caso se fai slash is ti porta qua? o ti va in un'altra isola? si ok perfetto siamo a posto perfetto guarda che cosa ho trovato miuuuuuuu ahahah che bello non troppo un cazzo ah ha metto tutto direttamente nell'inventario ah che piacere ah ma che figata seriamente vi ha la mucca carolina eh ma tienila prima che va nell'acido ma non ci dovrebbe andare nell'acqua solo a meno che non la spingiamo eh ma tienila chiusa con qualcosa tipo io intanto ho la texture bugata perché fa piacare mucca no mucca stai ferma stai ferma allora io te dobbiamo fare un discorso mucca carolina di sta ceppa sta ferma oh ma donna se mi rompeva le scatole sta mucca carolina ma se io io questo non ho capito se io faccio un secchio e raccolgo l'acqua è acido comunque diventa acqua normale no dovrebbe essere acqua normale ok possiamo fare un generatore di cobblestone però anche l'acqua che prendi se ci cagliate la mucca di dentro anche se non è il mare è acido attenzione perché altro mi fa paura sta mucca io l'ho recintata io ho una paura sta mucca no proprio non è pauretta è poppato un albero è poppato un albero vai vai cola 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 ancora perfetto guarda se so bravo ma guarda se so bravo attento all'acido eh ehong mom ah ma è vero qui c'è il coso vedi è vero domda vai 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 a a a a a a a una atta da lentezza veleno nausea a2 Eh, questa la dobbiamo tagliare con il farro Aspetta, qui ce l'hai Che dolore Ma fa un mare del santino Era qua quattro anni dopo Era ancora qua che stava scavando Il blocco Finchia, si guarda la vita Ancora questo Basta 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 Ma mi trolla sto blocco Mi trolla Ma mi trolla sto blocco del cazzo Non va via Non l'avevo Butta via sto cosmo Mi sento più leggero Ma secondo me laggava il server Non so quello di plastica Non di ferro Esistono i piccoli di plastica Che figata Il primo piccolo di plastica della storia Allora prendi stacco bleston Allora lavori lei Cioè ma Mucca Mucca carone bevo latte Oddio Diamanti Si ho capito Io stavo rischiando La vita forever alone E te mi parli di diamanti Mangio le mele Spicazzi No Oh si Dai guarda Brucia Come brucia Fammi bere sto cazzo di latte Madonna Se brucia Minchia proprio Perché secondo me Hanno messo la mucca carolina Minchia se brucia Prima vi promette Che cadono nell'acqua Ma brucia Allora Io poi non ho capito Perché sto facendo ciò Perché sto bruciando Il legno Per avere la carbonella Quando potrei usare Direttamente il legno Per cuocere Oh Ok Oh no va benissimo Benissimo Ok sono io Che ho i ragionamenti giusti Sono il capitano uncino Ta 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 Dimmi Ah vai zitto Dai larghiamo sta l'isola Beh che poi Perché la larghiamo Ufficialmente Cioè Che è piccolo Al massimo abbiamo Kit Naufrago Che posso già rifare Tra l'altro Sì tra l'altro Te l'ha dato praticamente gratis Appena entrato Eh si beh è normale Kit di ingresso Kit Naufrago Però possiamo già rifarlo Buono 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 Ci facciamo una casetta poi Per forza Una cascia fatta bene Con tutto Ecco Ma smettila di capire La casca Ma smettilo di capire in locate Ma puttana miseria Ma non puoi venire che tocca alla moda Giusti 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 Ehhh ok Con calma Con calma Con calma Con la calma non si ottiene un cazzo Quindi con calma Allora mob farm si può picchia il mob spanner di cast capì però c'è uno c'ha fame viene qui c'ha 40 mucche che è pieno di end ascolta inizia a ammazzare qualche mucca che io ho fame ok c'è se la shwarp quindi sti cavoli shop create enchant info volevo prima vedere la cosa degli achievement che se non sappiamo quella siamo un po fregati ban list per vedere la lista dei bannati ma non posso dire la lista dei bannati challenges challenges ok eccola qua la lista dei challenge minatore cosa bisogna fare col minatore a ok crea un generatore di pietra produce 64 blocchi di pietra ok una volta fatto 24 pezzi di pelle e stivali o forse un libro comunque 10 soldi e 30 di esperienza ok gg questo invece bisogna fare 7 delle challenge legno bisogna fare raggiungi livello 10 per la tua isola estiche anche azi fabbrica il vetro 64 pannelli di vetro dobbiamo fabbricare o che besti cazzo allora l'hanno detto questo è anche questo di scambio a ok c'è slash trade allora dicevi che dovevo andare a vedere sono richiesto il cibo cibo andiamo a sali mob quindi mi tocca già lavorato dove cazzo si va ma non dovevi cadere di sotto mucca mucca non deve cadere no stanno già sul cazzo le servere non vorrei dire mi stanno già sul cazzo allora maglia parco parca parca mondo marco 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 che mi dà mandato tipo 2 dollari e 93 per il tarco tic che tutta che si tratta 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 mi sbagliato sulle scine poi da mangiare l'ho preso è o che non dimenti scatole il mio lavoro l'ho fatto diamo un po un'altra cosa che si fa non abbiamo i semi normali inghiadi investito per tutte le cose mi tocca già fare gli investimenti per lei per il futuro eccolo qua lo scioppo e io voglio perché sta la roba blocchi cibo blocchi minerale agricoltura di qua ragazzi si va minerali e qui ok si mi vado semi di zucca semi cacao semi eccolo qua minchia 100 costano minchia soldi io adesso 530 o vabbè dai 100 per scelto per un sceme minchia mi sento mi sento povero e vabbè ma tanto per le guadagnano pian piano 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 mi sento poverone allora e deve fare così quanto il secchio di latte direi che me lo bevo quando non cado più in in acqua quindi tranquillamente posso prenderlo e perché deve essere sempre così negativo ma il fine ma se sei caduto 10.000 volte nell'acqua prima e perché la case la casella no 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 però bello che sia l'isola guarda non devo neanche mettere una pozza d'acqua vicino la comodità e comodità stai attento che è acido e ok vado a fare un saltino anche io al spawn si proprio così si fa quello vedere guarda quanta gente c'è vabbè lo spawn non posso ma la gente c'è ma 4 più 90 guarda minchia cos'è qua la la mucchiata ma veramente non tanto gratis ma vergognatevi vergognatevi un viaggio in nave tutto con 3 t perché tutto tutto un viaggio in nave tutto tutto ma come cazzo si legge sto cartello un viaggio aspetta forse aspetta che mi sta venendo un dubbio che a me resurpack mi frega un casino secondo me fa vedere no no ok è scritto di merda loro che ho capito ha scritto di merda loro ma rimetto sti grandi sì vabbè per la 1 12 ma sti gran cazzi ma lo stesso un viaggio in nave tempesta di tutto norma alla storia ok un viaggio in nave tutto normale ma dopo una improvvisa tempesta ti ritrovi su un'isola in un mare acido perché il mare acido attento a non toccarlo altrimenti rischi la morte cerca di sopravvivere migliorando sempre più la tua isola completa le challenge per guadagnare exp item e soldi informazioni generale vabbè qui usamo le pozioni e proteggerli dall'acido le spugne assorbono l'acido vabbè sti cazzi anche la pioggia alcune volte acida azzù ecco perché dobbiamo farci una casetta ok la pietra ottenuta tramite generatori può sciogliersi se piazzata all'interno dell'acido può a volte lo fa anche i mob subiscono danno dall'acido buono a sapersi tutte cose che sono utili a spesa sapevi che esistono delle isole anche nel nether vabbè basta fare un portale e ti porterà l'altra visto è visto il lavoro del signor davis come la vera chodo ha visto allargato ma non funziona carlinia ci godo ci godo ci godo bene ragazzi spero che questo primo video vi possa essere piaciuto spero che questo server vi piace perché a me mi sta veramente incuriosendo tanto questo server probabilmente può poterci che ci inerdiamo un pochetto buon darci e niente dite lasciate un po' lo stesso piaciuto video perché i codi non lasciarà sempre più video e volete anche una serie su questo server tranquillamente la faremo ma tanto la portiamo lo stesso perché noi siamo stronzi e mi raccomando lasciate prezzi su questo video mi raccomando commentatelo condividetelo dovunque anche al cesso mi raccomando e niente da davis a genca la mucca carolina possiamo dire che è finita che buono il latte di carolina direttamente dalle mommelle minchia sembra un perverti peta peta così sì mommm mommm dai mommm